Allarme cinghiali in tutta la zona pedemontana del Monte Morrone a lanciare l'SOS questa mattina ai numerosi agricoltori e residenti della frazione Marane che da anni stanno cercando con le ronde di mettere fine al passaggio degli ungulati che ogni anno provocano danni per centinaia di migliaia di euro. La situazione è diventata insostenibile, sottolineano gli agricoltori. Non ne possiamo più di vedere i nostri campi devastati. E poi sono anche un problema sulla strada, visto che con la loro violenza gli animali selvatici attraversano in branco l'intera arteria che conduce nella frazione Marane. Per cercare di risolvere il problema l'8 maggio scorso la giunta regionale ha approvato però il piano di controllo del cinghiale. Lo ha reso noto l'assessore alle politiche venatorie Dino Pepe che ha precisato il piano consende l'abbattimento della specie per l'intero anno anche negli istituti di tutela e nei periodi di caccia chiusa. Si tratta di uno strumento concepito espressamente per il controllo delle popolazioni di cinghiale e del contenimento degli impatti che la specie provoca all'agroecosistema. Secondo il nuovo regolamento emanato dalla terza commissione sul prelievo venatorio degli ungulati lo stesso dà priorità al raggiungimento dell'obiettivo di eredicazione del cinghiale nei territori ad altissimo impatto sulle attività umane, rafforzando sia gli strumenti di pianificazione sia i metodi di abbattimento. Si permette ad esempio a tutti i cacciatori iscritti all'ATC Ambito Territoriale Caccia di potervi esercitare la caccia con tutte le tecniche consentite.